Volete attaccare il vostro smartphone al manubrio della moto ma siete stanchi di custodi ingombranti e complessi sistemi di aggancio? Noi di Oram abbiamo una soluzione estremamente semplice. Stiamo parlando della gamba di accessori SP Connect che permettono di collegare in modo facile e veloce e soprattutto sicuro il nostro smartphone al manubrio della moto. Sarà sufficiente andare a inserire l'aggancio e ruotarlo di 90 gradi per andare a bloccare il telefono in una posizione veramente salda. Vi assicuro da qua non si muove. Sono disponibili sia le cover dedicate per i principali modelli di smartphone in commercio, qui li vediamo su un iPhone, oppure il kit universale con un potentissimo adesivo 3M che permette di trasformare la nostra normale cover in una cover compatibile con il sistema SP Connect. Il pezzo è realizzato in metallo CNC e di estrema robustezza e presenta un sistema di smorzamento delle vibrazioni per evitare che il cellulare possa vibrare mentre andiamo in moto. Potremo ruotare di 360 gradi il nostro device, quindi scegliere la posizione in cui lo vediamo in maniera ottimale. Un sistema estremamente semplice e veloce per attaccare e staccare il nostro smartphone dal manubrio della moto. In più le cover sono realizzate con materiali di altissima qualità e disponibili per vari modelli di cellulare in commercio. Ed inoltre il sistema di montaggio è adatto sia a manubri standard che manubri oversize, quindi di grandi dimensioni. Potete già trovare la gamma SP Connect su oramonline.it, vi lascio i link in descrizione. Come sempre non vi dimenticate di iscrivervi al canale di YouTube. Veniteci a trovare nel nostro showroom di Modena in via Emilia S935. E vi do appuntamento come sempre al prossimo video, sempre con Oram e AlwaysRiding. Ciao!